Ciao a tutti ragazzi, io sono Awesom ed oggi siamo su combinazioni strane di cibi con la Nutella. Infatti ho preso cose tipo la Coca Cola, cereali, salatini, quindi in tutto questo ho dimenticato di prendere la Nutella. Ok scherzo. Allora per il momento la nostra prima combinazione sarà Nutella e salatini. Allora raga, penso che l'agrodolce mi fa cagare, iniziamo bene, quindi non so tanto se mi piacerà, però ragazzi ci provo, ci provo. Oh, buonissimo. Praticamente si sente più la Nutella e alla fine c'è il retrogusto del salato. A proposito, voi come li chiamate? Perché stanno quelli che li chiamano Cracker, salatini e cose. Comunque era buono, sono stato fortunato. Ok raga, proviamo la Coca Cola. Ok, non è successo un cazzo. Ok, non è successo un cazzo. Porca puttana, tutto mi è caduto, porco due, adesso che cazzo mi bevo a mia madre? Mannaggia a sti, mannaggia alla Befana, mannaggia. Ma che cazzo c'ha sta Coca Cola, raga? Cioè, Coca Cola sterile. Raga è successo il casino, ok? Allora, praticamente è arrivata a fine qui, no? Si è fottutamente esplosa due volte, due porco due, mamma mia. Due porco due, vabbè. E proviamo. Ah, questa sì che vita. La mia vita fa cagare, la mia vita è proprio peggio dello schifo. Ok, ho fatto una... Ok raga, adesso faremo praticamente la stessa cosa, soltanto che sopra scenderemo a mettere i cereali. Però con una sorpresa, che odieranno, porco due, non so parlare. Odieranno praticamente tutti. Che sarà? Salatini. Cereali. E... Surprise, motherfucker! Crash up, motherfucker! What the fuck? Lo dirò. Mentre tutto il ketchup, per la mia sfiga di merda. Devo prendere aria. YOLO! Ok ragazzi, il video è finito. Lascia like. E prima vi devo dire due cose. Primo, ho la maglietta bagnata. Secondo, ho la maglietta bagnata. No, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, la prima... Scusate per la visuale, perché non sono riuscita a trovarne una decente. E secondo, vi dico, vi faccio un annuncio. Fra qualche mese, no? No, ma neanche fra tipo un mese. Dovrebbe... Dovrei... Mi dovrebbe arrivare il computer che ho ordinato su Amazon. Cazzi miei, che cazzo me ne frega. Vi voglio dire che il primo... Il primissimo gameplay che farò sul computer, fatto bene, perché poi... Sul telefono... Fa cagare, praticamente. E farò... Cat Mario 4, perché mi è venuto spontaneo così. Tra l'altro, qui... Casino. Casino. Casinissimo. E vabbè, lasciate like. Scusate ancora per la visuale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.